Con il comportamento alle intersezioni e vediamo di leggere quello che dice il codice e poi ve lo commento. Intersezioni che vi ricordo nei quiz spesso sono chiamate incroci, quindi troverete nei quiz tutte e due i termini, intersezioni e incroci. In realtà, come avevo già spiegato in un video, non sarebbero propriamente la stessa cosa, però per estensione e diciamo in modo così colloquiale per uso comune, si usa il termine incrocio anche al posto di intersezione. In realtà l'intersezione è fisicamente quella che vediamo sulla strada, cioè l'area comune ha due o più strade che si intersecano sullo stesso piano, l'incrocio è propriamente invece quello che fanno i veicoli muovendosi e incrociando le loro traiettorie all'interno della strada. Per esempio nelle intersezioni, quindi il termine incrocio si riferisce al movimento dei veicoli, il termine intersezione si riferisce proprio fisicamente all'area, alla zona comune, alle strade che si intersecano. Spero di essere stato chiaro. Poi i quiz, insomma, così sono un po' più approssimativi, quindi parlano di incroci anche al posto del termine intersezioni, ma insomma non è possibile comunque confonderli all'interno dei quiz, quindi state tranquilli che le domande dei quiz si capisce bene a cosa si riferiscono. Tutti i conducenti, compresi quelli che hanno il diritto di precedenza, approssimandosi a una intersezione, anche regolata da semaforo o da vigile, devono moderare la velocità, prestare attenzione a tutti i veicoli provenienti da qualunque direzione e usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Cosa vuol dire approssimandosi a un'intersezione? Vuol dire avvicinandosi. Moderare la velocità, come abbiamo visto parlando della velocità, significa sempre rallentare nel codice della strada e poi prestare attenzione a tutti i veicoli provenienti da qualunque direzione e usare la massima prudenza per evitare incidenti. Quindi, avvicinandosi a un'intersezione che sia o no regolata dal vigile o dal semaforo, bisogna sempre rallentare, assolutamente mai accelerare nel caso in cui ci sia il semaforo verde o il vigile sia nella posizione di dare via libera alla nostra direzione, ma sempre usare prudenza e rallentare. Per quanto riguarda la precedenza, sia dare la precedenza, sia avere la precedenza. Quindi è opportuno, arrivando a un'intersezione, ispezionare la strada che si incrocia prima a sinistra e poi a destra, perché i veicoli che provengono da sinistra sono più vicini a noi e sono quelli che ci devono dare normalmente la precedenza. Quindi dobbiamo prima assicurarci del loro comportamento e poi a nostra volta dare la precedenza a destra. Siccome chiaramente non possiamo guardare contemporaneamente da tutte e due le parti, non avendo diciamo uno sguardo tipo camaleonte che ha gli occhi orientabili in diverse direzioni contemporaneamente, purtroppo dobbiamo decidere da quale parte prima guardare e quindi è meglio guardare prima alla sinistra e poi alla destra. Oh, attenzione, anche quando arrivate a un'intersezione con una strada a senso unico, ricordatevi che non dovete mai accontentarvi di guardare solo dalla parte dove dovrebbero arrivare i veicoli, essendo a senso unico la strada che incrociate, ma anche dalla parte opposta prima di attraversare, perché non dovete mai dare per scontato che ci sia qualche veicolo tipo bicicletta o ciclomotore che arrivano contro mano e poi vi trovate improvvisamente questi veicoli che arrivano dalla parte dove non dovrebbero arrivare. In caso di incidente, chiaramente sapete che le assicurazioni sono molto puntigliose, se uno non ha fatto di tutto per evitare l'incidente, c'è sempre il problema del concorso di colpa. Quando siamo fuori dai centri abitati e le circostanze lo rendono consigliabile, per esempio c'è scarsa visibilità, è opportuno, visto che è consentito, usare le segnalazioni acustiche, cioè il clacson arrivando all'incrocio, se abbiamo qualche dubbio sul fatto che arrivi qualcun altro dalla strada incrociante. Di notte invece è possibile usare per esempio il lampeggio a breve intermittenza con gli abbaglianti, quindi lampeggiare a breve intermittenza con i proiettori abbaglianti per far vedere che noi stiamo arrivando all'incrocio. Ciò però naturalmente non significa che dobbiamo attraversare senza guardare o che siamo esenti dall'avere prima rallentato. Quindi ricordatevi soprattutto nei centri abitati di notte, spesso i semafori, anzi non spesso, sempre, i semafori degli incroci di minore importanza si dispongono automaticamente a luce gialla lampeggiante, quindi vale poi la norma della precedenza destra. E quindi siccome di notte il traffico è piuttosto, diciamo così, meno controllato, se è un po' più indotti a non rispettare le segnalazioni delle precedenze, ricordatevi sempre di essere molto prudenti, anche se venite da destra. E andiamo avanti dicendo che è vietato impegnare un'intersezione o attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie se non si ha la possibilità di proseguire e sgombrarla in breve tempo, cioè non possiamo fermarci per esempio in coda sulle linee ferroviarie, sulla rottaie del treno o dei tram, bisognerà aspettare che sia smaltita la coda. E adesso vediamo come comportarsi per l'incanalamento alle intersezioni, perché abbiamo diverse possibilità. Cominciamo a vedere innanzitutto quando abbiamo le frecce direzionali che sono dipinte sulla carreggiata stradale, quindi avremo una divisione in corsie arrivando all'incrocio e le frecce direzionali in ogni corsia. Dovremo preventivamente incanalarci nella corsia adatta alla direzione che vogliamo prendere, perché vedremo queste frecce che in questo caso per esempio abbiamo nella prima figura a sinistra, la corsia di destra ci consente solo di svoltare a destra, quella di sinistra solo di svoltare a sinistra e quella centrale di andare solamente diritto. Quindi fintanto che siamo dove le strisce di separazione di corsia sono ancora discontinue, possiamo cambiare corsia e metterci nella giusta corsia secondo l'intenzione che abbiamo per la direzione da prendere. Nell'altro esempio a fianco vediamo che qui si può solo svoltare a destra, quindi in questa intersezione noi possiamo solo svoltare a destra da entrambe le corsie, non potremo né andare dritto né svoltare a sinistra. Vediamo cosa succede se non ci sono le frecce direzionali. Quindi c'è solo la divisione in corsie ma non abbiamo le frecce direzionali. Ora abbiamo sempre in questi incroci dove c'è la preselezione, cioè la divisione in corsie, abbiamo una zona che si chiama di preselezione che è quella dove le strisce di corsia sono discontinue e possiamo ancora cambiare corsia. Poi abbiamo una zona di attestamento che è quella dove le strisce diventano continue e non possiamo più cambiare corsia. Ora, chi va dritto non intralcia gli altri, quindi in assenza di frecce direzionali possiamo per andare dritti stare in una qualunque corsia, come vedete in tutte e due le figure. Chi invece deve cambiare direzione deve mettersi nella corsia di destra per svoltare a destra, nella corsia di sinistra per svoltare a sinistra. Vediamo l'ultimo caso che è quello dell'intersezione dove non c'è una suddivisione in corsie, la carreggiata naturalmente abbastanza larga, dobbiamo comportarci come se ci fosse la divisione in corsie. Quindi, chi va dritto può stare in una qualunque posizione, chi svolta a destra deve mettersi completamente vicino al margine destro, chi svolta a sinistra deve mettersi del tutto vicino alla striscia di mezzeria per svoltare a sinistra. Ultima cosa, una volta che abbiamo fatto la scelta della corsia, siamo tenuti a rispettare la direzione o le direzioni consentite da quella corsia. Cioè, non possiamo né cambiare corsia quando le strisce sono diventate continue e nemmeno decidere di andare in una direzione diversa da quella consentita, nemmeno se usiamo l'indicatore di direzione, perché se no intralciamo il traffico tagliando la strada a quelli che vanno in una direzione diversa. Quindi, se abbiamo sbagliato di incolonnarci, di incanalarci, dobbiamo purtroppo andare nelle uniche direzioni consentite da quella corsia. Naturalmente, ogni cambio di corsia, dove ancora le strisce sono discontinue, va segnalato per tempo, cioè qualche secondo prima, con l'indicatore di direzione. È vietato manovrare a zig-zag, cosa che fanno spesso i veicoli e due ruote, come le biciclette, i ciclomotori e i motocicli, per portarsi sulla striscia d'arresto, che è questa bianca, superando tutti gli altri veicoli. E invece, anche loro devono incanalarsi, come tutti gli altri, rimanendo in fila. O, in corrispondenza delle intersezioni non regolate da vigilo o da semaforo, è vietato affiancarsi e sorpassare. Ok? Ecco, per esempio, in questa intersezione, dove non c'è né vigile o né semaforo, non si può affiancarsi l'uno all'altro arrivando all'intersezione, perché se no ci si limita la visibilità a destra e a sinistra, l'uno con l'altro. Nel caso di incolonnamento di veicoli, quindi code, bisogna lasciare liberi gli sbocchi delle strade laterali, quindi non fermarsi a metà, perché se no si creano ingorghi di traffico e proseguire solo quando c'è, insomma, uno smaltimento della coda. Poi vediamo ancora le risposte vere dei quiz relativamente al comportamento corretto quando ha un incrocio urbano al segnale di via libera il conducente del veicolo che ci precede tarda a riprendere la marcia. Ci sono naturalmente diversi quiz, sia veri sia falsi, noi vediamo la risposta, le risposte di quelli veri. È opportuno attendere pazientemente la ripresa della marcia, evitare di suonare il claxon con insistenza e di provocare una situazione di intolleranza negli altri automobilisti. Se c'è bisogno ed è possibile farlo senza pericolo, prestare aiuto all'automobilista rimasto fermo e non superarlo con manovre pericolose. E adesso veniamo a quello che si tratta dell'intersezione con circolazione rotatoria che il codice della strada non contempla come tipi particolari di intersezione, cioè dove esiste una rotatoria, per il codice della strada la rotatoria è comunque una intersezione come le altre. Quindi non c'era una normativa precisa fino a qualche tempo fa su come doversi comportare nella rotatoria, insomma è come se la rotatoria fosse una carreggiata a senso unico che si sviluppa arrotolandosi su se stessa e tornando indietro, ok? Dove la circolazione avviene in senso rotatorio, anti-orario. Siccome questa mancanza di normativa durante gli esami provocava un notevole disorientamento perché ogni esaminatore nella guida pratica interpretando a modo suo il comportamento nella rotatoria diciamo così, pretendeva diversi comportamenti, purtroppo i poveri istruttori di guida dovevano adeguarsi di volta in volta sapendo cosa richiedeva ogni esaminatore e quindi a secondo della presenza di uno o dell'altro istruiva i suoi allievi prima dell'esame dicendo guarda che questo in rotatoria vuole che fai queste manovre, che accendi l'indicatore in questo modo, che lo spegni in questo modo bla 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 eccetera eccetera o finalmente e quindi si era sempre soggetti un po' alle così, non c'era una normativa unica c'erano delle contestazioni e così via adesso per fortuna da un po' di tempo a questa parte hanno emanato una normativa precisa quindi non ci sono più possibilità di contestazioni di arbitri, di interpretazioni arbitrari eccetera la cosa che adesso leggeremo vi sembrerà un po' complicata ma in realtà non lo è, cercheremo di chiarirla il più possibile purtroppo è stata formulata in termini un po' complicati da chi ha scritto il testo del Ministero dei Trasporti noi cercheremo di semplificare il più possibile chiariamo subito determinate parole che vengono usate per definire il comportamento nelle rotatorie allora si parla di carosello nel senso di circolazione in senso rotatorio dei veicoli in senso anti-orario quindi il carosello sarebbe la rotatoria cioè questi veicoli che entrano e girano facendo questo carosello all'interno della rotatoria ahimè hanno scelto questo termine un po' strano vabbè comunque abbiate pazienza quindi le uscite dal carosello che sarebbe poi l'anello il carosello le uscite che volendo considerare un'intersezione a quattro bracci con questa circolazione rotatoria in mezzo le uscite sarebbero quattro le uscite sono considerate si possono considerare analogamente a delle svolte quindi ci si rifà alla norma del cambiamento di direzione che abbiamo visto nel video relativo ai cambiamenti di direzione ci sono due tipi di rotatorie o meglio c'erano perché adesso le hanno tutte uniformate quindi il testo fa riferimento alla vecchia rotatoria che era in vigore tanti anni fa dove mancava qualsiasi segnale relativo alla precedenza cosa che vedete invece in questa figura vedete che a ogni immissione cioè ogni entrata c'è dare precedenza destra e sinistra molto tempo fa tanti anni fa invece non c'era il segnale dare precedenza quindi chi entrava nella rotatoria chi doveva entrare aveva la precedenza arrivando da destra rispetto a chi ruotava nella rotatoria ora invece secondo normative europee sono state emesse a ogni ingresso è stato messo il segnale dare precedenza destra e sinistra quindi non ci sono più dubbi e in tutta l'Italia probabilmente non troverete più neanche una vecchia rotatoria però se doveste trovarla sappiate che c'era questa vecchia normativa ecco perché il testo fa riferimento alla possibile mancanza di specifico segnali dare precedenza però dice subito dopo solitamente a posto in corrispondenza delle emissioni quindi adesso siccome il segnale di precedenza ormai c'è in questo caso noi entrando dobbiamo dare la precedenza a chi arriva circolando la rotatoria arriverà dalla nostra sinistra ok? dobbiamo naturalmente come in tutte le intersezioni moderare la velocità cioè rallentare controllare il comportamento degli altri conducenti e adesso vediamo i due tipi di rotatorie presenti in Italia ricordatevi che le rotatorie sono state costruite di recenti accelerandone la costruzione per una spinta dell'Unione Europea perché le rotatorie hanno dei pregi cioè rallentano il traffico arrivando all'intersezione evitano gli scontri frontali e quindi gli incidenti diminuiscono la probabilità di incidenti e poi praticamente sostituendosi alla presenza dei semafori limitano molto il consumo di corrente elettrica ecco perché sono state un po' sono state diciamo hanno avuto questa enorme diffusione abbiamo tuttavia due tipi di rotatorie questa che vediamo in questa prima figura è una rotatoria corsia semplice cioè monocorsia allora vediamo come ci si comporta entrando e uscendo e in una rotatoria una sola corsia è strada d'accesso a una sola corsia per senso di marcia questa quindi le strade hanno una sola corsia di immissioni occorre immettersi nella rotatoria restando in prossimità del margine destro dovete guardare il veicolo a questo veicolo arancione per questa prima spiegazione ok nella manovra di immissione non è necessario azionare l'indicatore di direzione sinistro ma occorre azionare l'indicatore di direzione destro come vediamo sta facendo il veicolo A nel caso si intenda imboccare la prima uscita di destra come vediamo sta facendo il veicolo A che in entrata accende l'indicatore di direzione destro lo tiene acceso finché non ha svoltato alla prima uscita dal cosiddetto carosello ok adesso vediamo invece il veicolo B cioè se non si deve uscire al primo braccio ma per esempio si deve uscire al secondo cioè in asse quindi il veicolo B entra nella rotatoria senza accendere nessun indicatore di direzione supera la prima uscita di destra appena superata la prima uscita volendo uscire alla seconda accende l'indicatore perché deve far capire che vuole uscire alla prossima immediata uscita ok la diciamo spiegazione che loro danno un po' complicata è così ve la leggo se non si deve uscire al primo braccio si accede all'anello senza attivare l'indicatore di direzione ma occorre azionare quello di destra con idoneo anticipo rispetto al momento in cui si imboccherà il braccio di uscita prescelto in pratica ciò deve avvenire subito dopo avere superato il braccio d'uscita precedente a quello in cui si vorrà uscire questo vale anche se io voglio uscire alla terza o ritornare indietro alla quarta tra l'altro le rotatorie sono state anche inventate per permettere l'inversione di marcia su quelle strade dove esiste uno spartitraffico che non permette mai di fare l'inversione perché se uno sbagliato a imboccare una direzione deve purtornare indietro quindi non potendolo fare direttamente dovrà aspettare di arrivare a una rotatoria per tornare indietro detto questo quindi chiariamo che se il veicolo B volesse uscire per esempio al terzo braccio entrando non accende indicatori continua a girare senza mettere diciamo indicatori di direzione per l'uscita finché non ha superato il secondo braccio e arriva al terzo braccio e quindi prima di svoltare al terzo braccio utilizzerà l'indicatore di direzione destro ok? e così se volesse tornare indietro adesso andiamo avanti a vedere che cosa succede adesso io qui vi farò vedere la figura perché è molto in basso ma vi leggerò la spiegazione che è relativa alla rotatoria due più corsie e strada d'accesso con due più corsie per senso di marcia perché la cosa qui si complica un po' quindi vi metto in visione la figura e vi leggo che cosa si deve fare allora innanzitutto come vedete abbiamo due corsie all'ingresso e due corsie per girare all'interno cominciamo col vedere cosa si deve fare per uscire sul lato destro dell'anello che sarebbe questo ok? questo qua come abbiamo visto prima ci si avvicina la rotatoria mantenendosi in prossimità del margine destro della carreggiata quindi in questo caso facciamo come l'altra volta stiamo nella corsia di destra nell'anello si circola sulla corsia di destra rimaniamo all'esterno volendo uscire al primo braccio si aziona l'indicatore di direzione destro fin da quando si sta entrando nella rotatoria ed è uguale a quello che abbiamo visto prima nelle rotatorie monocorsie se non si deve uscire al primo braccio si accede all'anello senza attivare l'indicatore di direzione ma occorre azionare quello di destra con un terzo anticipo dopo avere superato l'ultima uscita in cui non siamo usciti insomma in poche parole facciamo come prima cioè entriamo se vogliamo uscire in asse seconda uscita entriamo stiamo nella corsia di destra non azioniamo nessun indicatore di direzione perché non vogliamo svoltare subito a destra superata la prima uscita accendiamo l'indicatore di direzione destro e poi svoltiamo alla seconda uscita ok che sarebbe quello del proseguire diritto che vi ho già anticipato perché praticamente il comportamento è questo o c'è la possibilità che magari in caso di traffico intenso si possano impegnare tutte e due le corsie per entrare e naturalmente se io mi trovo a impegnare la corsia di sinistra e mi trovo poi a girare nella corsia più interna prima di uscire al braccio diciamo così in asse alla seconda dovrò chiaramente azionare l'indicatore di direzione destro e spostarmi stando molto cauto sulla corsia di destra per tempo senza tagliare la strada quelli che si trovano nella corsia di destra perché c'è anche quella evenienza di traffico quando cominciamo ad avere più corsie c'è la possibilità che ci siano degli ingorghi di traffico adesso vediamo invece l'ultima cosa cioè per uscire sul lato sinistro dell'anello che è quello che vediamo rappresentato esattamente in questa figura ci si avvicina la rotatoria come se si trattasse di una svolta sinistra questo lo possiamo leggere direttamente perché compare anche qui nella nella zona della pagina quindi per uscire sul lato sinistro dell'anello è quello rappresentato diciamo dalla traiettoria del veicolo verde ci si avvicina alla rotatoria come se si trattasse di una svolta sinistra quindi portandosi nella corsia di sinistra della strada d'accesso immettendosi nella rotatoria si attiva l'indicatore di direzione sinistro perché vogliamo già indicare che noi ci porteremo nella corsia interna di sinistra e continueremo a girare mantenendoci nella corsia interna nell'anello si circola nella corsia di sinistra mantenendo in funzione l'indicatore di direzione sinistro prima di imboccare il braccio d'uscita che sarebbe il terzo questo si deve con conveniente anticipo attivare l'indicatore di direzione destro eccolo qua e spostarsi sulla corsia di destra verificando di non tagliare la strada ad altri veicoli è un po' quello che abbiamo detto prima nel caso in cui ci sia per esempio un ingorgo di traffico e quello che è previsto anche adesso da chi ha scritto questa norma è l'ultima cosa che dobbiamo leggere cioè qualora sul ramo d'accesso e nell'anello vi sia traffico intenso e non sia possibile occupare la corsia di sinistra quindi si rimane diciamo imbottigliati nella corsia di destra allora si può restare sulla corsia di destra anche se si dovrà svoltare in un ramo di sinistra che sarebbe poi questo alla fine della fiera la cosa sembra tanto complicata ma complicata non è diciamo che l'unica manovra un po' particolare è quella del tenere acceso l'indicatore di sinistra quando arriviamo da una carreggiata dove abbiamo più corsie immettendosi e dovessi spostare nella corsia centrale di sinistra e stare molto attenti prima di uscire di guardare bene gli specchi retrovisori anche direttamente sulla destra per poi portarsi sulla destra ovviamente prima di uscire in questo terzo ramo ultima cosa e poi vi lascio andare perché non riusciremo a vedere un altro argomento l'importanza fondamentale dell'uso degli indicatori di direzione molti quando entrano nelle a parte che molti non sanno questa norma perché non hanno preso la patente negli ultimi anni diciamo da quando è uscita questa norma e quindi si comportano ancora alla vecchia maniera cioè facendo come gli capita quindi aspettatevi di tutto ma molti indipendentemente da tutto ciò proprio non usano gli indicatori di direzione neanche sulla strada dritta cioè neanche in autostrada eccetera quindi ricordatevi che l'indicatore di direzione è molto importante per fare capire dove vogliamo andare è ancora più importante nelle rotatorie perché perché chi deve facciamo vedere la figura di prima chi deve entrare nella rotatoria facciamo conto che io sto arrivando dal basso inquadriamo questa figura e c'è questo questo veicolo verde che sta girando e correttamente usa l'indicatore di direzione se questo se io arrivo e ho questo veicolo che sta girando ci sono due casi io gli devo dare la precedenza comunque però ci sono due possibili comportamenti di questo veicolo B un comportamento scorretto e uno corretto il comportamento scorretto è quello del veicolo B che volendo uscire subito alla prima uscita di destra non accende l'indicatore come dovrebbe fare che abbiamo visto prima perché è scorretto perché se lui non accende l'indicatore non mi segnala a me che devo entrare che vuole uscire quindi se mi segnala che vuole uscire io so che posso entrare perché non devo dargli la precedenza in quanto lui esce prima di arrivare alla mia entrata se invece mantiene spento l'indicatore mi fa capire che vuole proseguire nella marcia e quindi io devo fermarmi per dargli la precedenza vedete quanto è importante chiaramente l'uso dell'indicatore nella diciamo nella giro nel girare nella rotatoria tanto più importante ovviamente è prima di uscire per far capire a quale braccio io voglio uscire perché se no chi mi sta dietro e diciamo sta percorrendo come la rotatoria non capisce più dove io voglio uscire ed è fondamentale